Si chiama Associazione Giorgio Vasari, si è costituita nel gennaio 2018 e desidera adoperarsi per il mantenimento e lo sviluppo della fiera antiquaria di Arezzo. Questa associazione è nata dagli antiquari del centro storico, dove abbiamo avuto un bel gruppo notevole di presenze e associati, sono circa 27, e il nostro intento è di collaborare con la giunta comunale per mettere a disposizione la nostra esperienza decennale di fiere e mostre per il bene della città e del centro storico. Gli associati sono prevalentemente antiquari, ma al loro fianco c'è anche la Fraternita dei Laici. Il palazzo di Fraternita ha visto tutte le edizioni della fiera dell'antiquariato in questi 50 anni, però questo palazzo aveva sempre i portoni chiusi, li abbiamo aperti e abbiamo accolto tutto lo slancio che è venuto dal mondo degli antiquariati e anche dal mondo della fiera. Questo palazzo ha accolto già le aste di antiquariato e intende svolgere un ruolo primario all'interno di questa storia lunga di 50 anni di antiquariato ad Arezzo. Ci muoveremo riattivando le aste di antiquariato e poi aprendo questa struttura anche a una scuola di restauro e a tutta una serie di conferenze pubbliche, aperte al pubblico perché noi abbiamo bisogno del gusto del bello e il gusto del bello qui ad Arezzo bisogna ricreare, ripartirlo attraverso gli oggetti che hanno vissuto e che hanno tanta nostalgia. La nostalgia del passato come creare la nostra identità attraverso l'antiquariato.